Musica 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 Sono arrivata anche a 12 in knockdown ma tanto specialmente quando le faccio ieri una settimana non le faccio quelle delle knockdown impossibru indovina cosa è un amato è un amato il amato si chiama il amato è un amato man 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 fius i man man bro are you for real man Allora 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 Non è nulla Non è nulla Allora Che cosa buona Questa è una buona LIL PIPI MASK FREE MASK FREE MASK FREE Armi Sub-Umane Sub-Machine Gun Need Sub-Machine Gun Sub-Machine Gun Sub-Machine Gun Look at this Bello settato Uuuu Ma perchè mi addossano il server? Perchè mi vengo addossato? Perchè? Chi è che mi addossa? Basta Basta addossarmi server Perchè Sono un bravo paione sono io Raga dai Non merito il DOS Mi devono addossare i server Non perchè 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 Ogni partita che sto facendo Praticamente è impossibile C'è qualcosa Qualquadra che non cosa Il Villain Si è creato dei Villain Che hanno tecniche di Di DOSING Che sono di DOS Di DOS Di server? Il Villain E vabbè Sono un Villain buono però In tutto questo Non sono un Villain Sono un Villain di quelli Buono Buono Faccio il Bazzardate Di base Sono Circa Grazie 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 Amigos Andiamo A Panculo Un po' troppe ammo Per questa cosa Credo Un po' troppe ammo Ammo Che confi che mi sento Che confi che mi sento Che confi Che confi Il Dito Medio Dito Medio Non credo si possa fare il Dito Medio Si può? Ragazzi Di Twitch Capete Ragazzi Secondo voi Devo ancora Diary Fuse o no? Secondo me Si Questa moda Può passare La moda diary Fuse Può passare La seconda Il problema Che Uh Box Si Si odia o non si odia Ragazzi Li odiamo o non li odiamo Cosa dice La chat Quali sono le opinioni? Da che lobby In che lobby sono? Lobby degli smart Di gruppo Gli Di Dich Da che Da che Chant Dich Che Dich Dich go damn baby they snowman they ain't good they ain't good boy I tell you stand stop stand stop stand stop they 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 ain't good they ain't good tell you they match nah 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 I'm going there for the care package ok i care package per me sono come la luce per i mosquitos i mosquitos l'arco there is a bow bow check I'm coming stay together stay together stay together ragazzi che comms che do e poi mi dicono che è remo contro che grifo dai dai raga mi dicono che sono un bad player bad team player dai dai bad team player he's a new team he's a new team go inside the safe it's gonna close go 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 just move just move careful air strike just go the safe the safe the safe the safe go 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 move why you go alone feud useless oh god un'ora di vieni 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 ora quello che fa octane ci va octane come here you're alone fucking retard quit fucking retard quit si si ti fa giocare con questi ritardati dio porco gli dico stati uniti gli dico ehhh entrate dentro safe che si chiude la safe questa fa male no devono stare ancora la dei più devi fare devi fare tà perchè se no non è contento mamma mia Che tumore di leggenda Porco dio Che tumore di leggenda L'Octane ovviamente ci va Perché anche lui deve fare le kill Octane, Bright, Fight Finder Tutti uguali sono Tutti uguali Quelli ci saranno morti tutti dalla safe Gordino Come si fa a giocare Con questi soggetti che non ascoltano Chi ascolta vince Vince sempre Cosa c'è di così difficile da entrare Dentro safe E holdarli fuori safe Cioè tenerli fuori Non capisco ragazzi Non capisco I don't get it Ogni volta stili tardati Ma non stiamo parlando Alle 6 di mattina Perché dalle 6 alle 9 è giocabile Dalle 9 in poi Ci sono i ritardati proprio mentali Non sanno I teammates senza brain Non sanno giocare E' proprio qualcosa di orari E poi dalle 11 in poi Arrivano gente con brain Cioè il gioco non si decide Non c'è Non c'è una via di mezzo O sono anni brain Cioè Boh Ha una certa ora nei brain la gente Perché dalle 6 alle 9 C'è gente sveglia Cioè è impossibile Come è cazzo fa Essas dai Cioè 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 Cioè